Benvenuti a Tripilare! Like e Suscrivete! È dicembre e avvengiamo una bella camminata in Lazzise, su Leggarda, tra i mercati tradizionali che precedono le fatture. Il mercato è aperto durante i week-end e i fattori. La città, la città, la città e le belle vittime che rendono i giorni in Lazzise molto speciali. Aggiungere il video fino alla fine, dove potete vedere un'incredibile sole e la bellezza di Lazzise, piccola porta e quadro, a niente. La città è la città di Lazzise, piccola porta e quadro, a niente. Di presto, il mercato è rosa, a niente. La città è una città di Lazzise, piccola porta, a niente. L'euro, a niente. La città è un'esmercata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.